a roma scontare a roma a buttare a buttare a roma siamo romani di roma siamo romani di roma a roma a roma a roma a roma a roma non Bruno, Bruno, osso. Osso Bruno, Bruno. Non siete il volo, capisco in macchina. Sei da qua, bella me! Bella me! Vedi che io Valentino... Bella me! ... Vedete il cappello, che quando mi toglie il cappello sono messo la tene. Bella me! Allora io Valentino ho sentito la tene di mettere il cappello e ho i capelli sconvolti. Guarda il cappello. Sono capace che pare la tene di me. Vedete che io sono passato la tene di me, Valentino, ho fatto... ... le ragazze le prese sotto... ... le ragazze le prese sotto... ... hanno fatto tre belle cose. Cosa? Una maglia, una shirt, una shirt, una shirt, una shirt, una shirt, un portacchiavi a forma di cuore, bello a cuoio, con la scritta tu sei un cuore mie, non sbaglio a parlare, tu sei un cuore mie, bellissimo, e poi vi ho preso un bel pupazzo simpatico, un signore pelato che sembra 30 lancia con i fili da flune, che ha una scipa mano, che gli ha scritto tanti auguri, sulla mano, nel senso, c'è la sulla mano, tanti auguri, e poi basta che gli accarezzi la testa, si apre con le mani la cappatura, e qui sei un rio, resta a pizza e si move, bella me, bellissimo, stavo scattando le risate di Valentino, e l'avevo preso al V1, quindi a noi vi ho pagato 45 euro, 47 euro, ce l'ho fatto 45 euro, solo con i soldi, solo con i soldi miei, praticamente mi ho messo in più io Valentino, però io mi sento con Angela, lei mi le dava ancora, quindi c'ero di Marilina, Angela e Marina, e quindi arriviamo a 45 euro, e Veronica, e Veronica, con i 5 euro di Veronica, tu ce l'hai già?